Si è disputato presso la tensostruttura dello Stefano Lamotta di Nicosia il Memorial intitolato al pallavolista Enzo Pandolfo, prematuramente scomparso per un brutto male nel 2009 all'età di 36 anni. Si sono riuniti per giocare una partita in ricordo dello sportivo diversi ex compagni di squadra che hanno militato negli anni passati nei Diavoli Rossi, la squadra di pallavolo nicosiana che in tanti anni portò in alto il nome di Nicosia sportiva ed insieme anche altri giocatori attuali che emidono in altre squadre della provincia. Nel ricordo di Enzo presente anche la madre Angela, promotrice di questo evento insieme alla figlia Marica. Tra gli spalti anche l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Carla Mancuso. Arbitro dell'incontro il professor Filippo Spalletta, figura di spicco dello sport nicosiano. Una serata all'insegna del ricordo ma anche della promozione sportiva per una disciplina che negli anni passati ha dato tante soddisfazioni sportive ai nicosiani grazie anche a figure di atleti come Enzo Pandolfo. La pallavolo, così come gli altri sport, deve diventare un veicolo sociale per poter dare speranza e futuro ai giovani nicosiani. Le amministrazioni devono porre senz'altro molta attenzione a questi veicoli sociali che portano solo benessere alla nostra comunità. Grazie a tutti.